ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi video degustabox se ancora non sapete che cos'è andate a vedere giù nell'info box perché li trovate tutte le informazioni compreso anche il codice sconto qualora la vogliate provare ad un prezzo scontato per il primo mese ma al di là di tutte le premesse io voglio subito svelarvi il contenuto di questa box comincio da questo pacco di pasta della marca armando che è buonissima in questo caso è la linguina trafilata al bronzo questa è una marca veramente ottima quindi se non l'avete mai provata io ve la consiglio poi vado avanti con una confezione gigante di maionese questa è quella classica quindi fatta diciamo con la ricetta tradizionale poi qui abbiamo un prodotto che secondo me va bene per le grigliate estive come aperitivo come piccolo antipasto perché abbiamo delle chips queste sono triangolari e sono al gusto formaggio sono cose che io generalmente non mangio mai ma penso che ci saranno occasioni per condividere queste cose con la famiglia poi una lattina di pepsi senza zucchero questa può essere utile anche da portarsi magari in vacanza essendo in lattina è più facile trasportarla e a proposito di lattina abbiamo anche la cedrata questa è una cosa che a me sinceramente non piace tanto però il packaging della lattina è bellissimo secondo me è proprio bello quindi sarebbe quasi da conservare la lattina poi qui abbiamo il farro alla mediterranea ricetta vegetariana della linea amo essere veg che credo che sia quella di euro spin se non ricordo male questo sarebbe molto interessante però visto negli ingredienti ci sono i capperi a me i capperi non piacciono quindi credo che questo lo regalerò a mia mamma poi un prodotto che invece secondo me mi piacerà questi crostini gusto pizza quindi con pomodoro e origano non fritti questi secondo me da stuzzicare mi piaceranno poi vado avanti con il patè di olive questo credo che sia in tubetto adesso lo apro così lo scopriremo subito sì è un tubetto di patè di olive fatto così può essere interessante per delle tartine o magari per qualche ricetta particolare poi proseguo con due confezioni di caramelle in realtà è la stessa tipologia di caramelle però hanno mandato la confezione doppia io pensavo fossero chewing gum perché si presenta così invece sono caramelle morbide alla fragola poi abbiamo la solita birra dico la solita perché la troviamo sempre vi rificio angelo coretti avvicino l'etichetta così se capite qualcosa di birra sicuramente più di me e ci vuole poco magari riuscite anche a inquadrare la tipologia poi una confezione di croissant classico della marca bauli questo mi fa sempre molto piacere perché io queste cose le mangio a colazione quindi questo è apprezzatissimo poi finisco con un prodotto che sinceramente non sono riuscita a inquadrare bene nel senso che non ho capito bene di cosa si tratta sono delle palline di frutta proprio delle sfere perché si sente anche vegane qui c'è scritto limone però sinceramente io non so che tipo di prodotto sia non l'ho mai visto non ne ho mai sentito parlare forse sono tipo caramelle alla frutta non ne ho idea non riesco proprio a individuare questi erano tutti i prodotti della box sicuramente un pochino più orientata alle grigliate estive perché ci sono prodotti che vanno bene per aperitivi antipasti e tartine quindi penso che l'idea fosse un pochino quella del resto il periodo è quello giusto per una grigliata quindi ci sta anche trovare prodotti di questo genere io comunque spero di avervi tenuto compagnia come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme